Revolverate contro i cartelli stradali rapine e pusher gambizzati per rubare la droga tutto in pochi mesi nelle campagne fra Piemonte e Lombardia, un far west di confine che è finito nelle scorse ore con l'arresto di due fratelli residenti nell'Alessandrino. Da parte della squadra mobile di Pavia i poliziotti erano sulle loro tracce dallo scorso 8 marzo quando nelle campagne di Caseigerola uno spazzatore nordafricano era stato raggiunto da due colpi di pistola alle gambe, derubato di una grossa partita di droga, eroina e cocaina e successivamente soccorso da alcuni passanti. Sono scattate quindi le indagini serrate che hanno portato all'arresto dei due fratelli. A loro la procura di Pavia ha contestato i reati di rapina, lesioni personali aggravate, possesso di droga e di armi da fuoco. Al fratello maggiore sono stati inoltre contestati i reati in relazione all'esplosione di alcuni colpi di pistola contro dei cartelli stradali lungo la provinciale 82 che collega i comuni di Sale e Spinetta Marengo, fatti accaduti lo scorso mese di giugno. Il GIP di Pavia ha emesso la misura della custodia cautelare in carcere per il fratello maggiore evidenziato, si scrive il giudice, per la spiccata propensione criminale e pericolosità. È disposto invece che il fratello minore, avendo il ruolo di gregario secondo la magistratura, venisse posto ai domiciliari.